Bravo, vai, 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 vai oh, allora, la fa lui, la facciamo fare a lui io riproverei la zonetta di domenica scorsa con la discesa no, devono fare quello al contrario adesso, prima quando hanno fatto al contrario, una volta bene, possono fare quello che vogliono eh, hai visto che è pagato anche lui? perché è peso in avanti scendi così e vai a fare il tronco come mi dici, allarghi, scendi, ti allarghi qua e stai lavorando scendi, allarghi la faccia di dare il suono pare che veniva giù con questo coso, ora e la che ti stringe tanto perché dopo loro devono fare il tronco anche lui che fa il tronco lo puoi fare, lo spazio che ha se fa così non lo fa più ma se viene giù si allarga un po' troppo Pietro, fagli vedere fagli vedere come si fa a piedi guarda qua, guarda come pagano i pesi guarda qua, oh Pietro, che quattro ruote motrici seconda, bravo, vedi che può fare il sassi ti giri se lo hai spazio eh anche potrei sfruttare più qua perché è girato là qua lo fa lo stesso eh eh, se è tirata dietro vieni un po' più qua Stefano ma non la incrocia se viene qui eh non devi incrociarla ma dico, la sfrutta un po' di più qua ma non la incrocia se viene qui eh non devi incrociarla non devi incrociarlo è un bel marsupio che c'è davanti che sbaglia è lì che mette giù sempre più di lavati per il marsupio se c'è da andare a mangiare non mette giù i piedi ve lo vuoi uccidere il capopattugno del pispino è un attimo lì a restare lì poi è un po' umido che cosa l'erba